C'entro anch'io C'entro anch'io Allora amici, la frase di oggi è simpatica è Prova, prova, prova Cari amici di Teletutto, buon pomeriggio Cari amici di Teletutto, ben ritrovati Siamo di nuovo qui Con un'altra edizione di Non mi piace questo Aspetta Dago all'arda alla gata Perché è la tenia sdequente Ovvero dare il gatto alla larda Amici, buon pomeriggio No Aspetta Prego, prego Sacre de peu al mal che al bé Vabbè, insomma, dai, su via Fanno più notizie probabilmente le notizie Allora, il detto di... No, senza allora Di nuovo qui amici, ben trovati ad una nuova Avere un anziano in casa È un impegno, lo sappiamo bene Però è anche un tesoro Significa poter fruire di una saggezza inestimabile Grazie No, l'ho ritrovato questa... Eh, non lo voglio più fare Eh, eh, eh Eh, 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 eh Eh, 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 eh Bene, chiudiamo anche questo nostro... Potete ammirare l'auditorium di San Barnaba Una volta, ovviamente, una chiesa La rifaccio Un volto a chi è preso da eccessiva preoccupazione Eh, non ha senso, insomma Ma che cacchio Tutti quanti... Amici, nella puntata di oggi desideriamo... Eh, 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 chiuda Chiudiamo anche questa... Eh, eh Eh, eh